Avete dominato tu entrambe le volte? Ma dominato dai, non mi sembra. Ieri un po' meglio, oggi siamo stati molto ordinati in campo, siamo andati avanti di tre gol e da lì abbiamo cercato di continuare e tenere il risultato. Il primo tempo è stato decisivo? Sì, il primo tempo ci siamo partiti forte, il secondo hanno giocato meglio loro, siamo stati capaci di tenere senza ricevere gol contro e il terzo l'abbiamo un po' gestito. Forse nel terzo tempo la stanchezza si vada a sentire da entrambe le squadre? Sì, sono d'accordo. Nel terzo tempo eravamo un po' stanchi da una parte e anche dall'altra, ci sono state poche occasioni, bene per noi. Cosa vuol dire per una società come il Vergine portare a casa un trionfo? Forse il più importante della sua storia? Sicuramente, sicuramente è il nostro trofeo più grande. È qualche anno che stiamo lavorando e siamo arrivati due o tre volte vicini e non eravamo stati ancora capaci di portarla a casa. Quest'anno ci è andata bene, siamo felicissimi. Avete vinto questa Coppa vi dà lo slancio per finire il Master Round, per puntare a fare quello che ha fatto lo scorso parese? Intanto ci godiamo la Coppa e dopo ci penseremo. Cosa vi aspetta? A parte che abbiamo visto un grandissimo pubblico a corso da voi a sostenervi. Sono d'accordo, dobbiamo ringraziarli, sono sempre con noi, quindi dobbiamo dire un grosso grazie. E la cosa però mi sento di dire è un applauso anche al pubblico di Varese che nonostante la sconfitta quasi tutti oggi erano al palaghiaccio. Sì, Varese è una città di hockey, quello si sa, e rispondono sempre bene a questi eventi, quindi complimenti anche a loro. Grazie e ci vediamo il play-off. Grappi, grazie.